e ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui per scoprire cosa contengono le notifiche in alto a destra ovviamente prima di andare a vedere cosa contengono ci andremo a fare questa partita in K5v5 con Miko perché perché vi ricordate lo scorso video in cui provai la tattica di Miko per vincere sicuramente beh la mappa non era quella infatti oggi è uscita proprio quella mappa e godo perché Miko non c'è nemmeno contro ok ok stavo per morirci sono morto ok è rimasto soltanto fang allora se se lo facciamo per bene regalo ce la possono fare due contro uno nonostante abbia più vita e più forza ma ok si stanno fermo così ma a noi non riesce a fare bene così ma regà ma sono scema ci sono molto grosso mamma io pure io ma che stanno fermi che non ho capito ma ma vabbè ma rega un bot da come vedo ho rimasto tre contro due adesso ok 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 regà ma ho vinto gg senza nessuna spenseratezza vabbè ovviamente raro allora regà adesso andiamo a scoprire quali sono quelle diciannove notifiche beh regà sono per diciamo l'evento della brussels championship che è ancora in atto però ho visto che comunque io in una giornata già ci ho beccato tutto e diciamo andremo a prendere però prima di tutto il graffito e la reazione bellissime e adesso andremo a prendere tutte le dici e sette i star drop ok va subito l'epica ok dai ci sono beh così proprio ok il biglio delle cat bene 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 ok super raro 100 monete boh non mi servono perchè perchè ne usate raro ok la doppia gettoni che non so quanti ne ho però potrebbero sempre servire punti energia dette non mi servono chissà voi se in questi dici e sette star drop riusciremo a trovarne anche uno leggendario però poco probabile ehm mi sa che ritiro ciò che ho detto ria però mi sa che sia il rumore delle monete quindi eh vabbè ho detto che comunque le monete mi servono quindi ok cioè ria ma adesso sono chiamato proprio nel leggendario eh vabbè ria pure mitico cos'è vediamo un po' che ci dà niente 500 crediti questo è raro 100 monete non male ok raro ci ne mancano 7 ok raro spra monete buono buono raro ci andrò ci andrò a doppia gettoni e super raro non ho capito perchè ci sono altre notifiche ma no ce ne stanno ancora sotto perciò super raro buono altre monete raro 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 e ci vediamo domani con un prossimo video bella rega Grazie a tutti